Nuovo caso sospetto di coronavirus nel Cilento, questa volta nella città di Agropoli. Dopo i due primi casi in campagna annunciati dall'Istituto Superiore della Sanità negli scorsi giorni, tra cui anche la 26enne di Montano Antilia, cresce il timore per un nuovo sospetto contagio, proprio quando l'ansia stava diminuendo grazie all'annuncio della regione dei 23 tamponi effettuati sulle persone che hanno avuto contatti con le due donne contagiate, che sono risultati tutti negativi. Nella serata di ieri un uomo di 50 anni di Agropoli si è recato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, accusando i tipici sintomi del virus che fanno pensare ad un contagio come febbre alta e tosse, passando prima per la tenda pre-triage locata fuori l'ospedale. L'uomo era tornato da qualche giorno da Venezia, dove era stato per una gita, e con lui erano presenti altre persone di Agropoli. Il 50enne è stato messo in isolamento ed è stato sottoposto al test del tampone, del quale si attendono i risultati degli esami fatti al Cotugno di Napoli in tarda serata. Il personale del San Luca però resta in apprezzione, visti i contatti avuti con i casi che si sono recati al nosocomio vallese, e anche per la mancanza di mascherine e occhiali necessari come prevenzione, e del quale il personale non è dotato.